Finalmente è arrivata una scelta da parte di Millie Carlucci che sta componendo il cast di Ballando con le stelle, esclusione a sorpresa Sono settimane caldissime per Millie Carlucci, chiamata a decidere il cast di Ballando con le stelle. La conduttrice a sorpresa ha deciso di escludere proprio lei Scopriamo quindi chi è che non farà parte del dance show di Rai 1. La conduttrice durante la trasmissione di Rai 1, via web sorce, spuntano le prime notizie da bordo campo per quanto riguarda la giuria popolare di Ballando con le stelle Il dance show di Rai 1 è giunto alla sua diciassettesima stagione ed arriverà sulla rete Ammiraglia a partire dal prossimo sabato 8 ottobre In queste ore Millie Carlucci ha deciso di sparigliare ulteriormente le carte apportando dei significativi cambiamenti destinate a portare un po' di imprevedibilità nel corso del talent Infatti la conduttrice ha deciso che a bordo pista non ci sarà più la criminologa Roberta Bruzzone, entrata in forza nel programma a partire dal 2017 Mentre invece Millie ha voluto confermare la presenza di Alberto Matano, che ha esordito nel 2020 Quindi il giornalista e conduttore della vita in diretta, di settimana in settimana, verrà affiancato da un ospite diverso che andrà quindi a sostituire l'Abruzzone Scopriamo quindi tutte le novità della prossima edizione della trasmissione Ballando con le stelle, Millie Carlucci lascia a casa Roberta Bruzzone, la decisione la conduttrice di Ballando con le stelle, Millie Carlucci, Foto Ansa, Angelo, Carconi Nonostante abbiano rinunciato ai ruoli di insegnante di ballo, con tanto di congedo nel corso dell'ultima stagione, Millie Carlucci ha voluto riconfermare a tutti i costi due personaggi che oramai fanno parte del meccanismo ben oleato di Ballando con le stelle Stiamo quindi parlando di Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira I due infatti faranno parte della giuria popolare ed andranno ad affiancare la sempre presente Rossella Erra Ai tre spetterà dunque il compiuto di salvaguardare il gusto del pubblico da casa che si esprima attraverso i social Un giudizio del popolo che strizzerà l'occhio alla tecnica, data la competenza delle new entry Inoltre ci dovrebbero essere grandi novità anche nel cast. Infatti Millie è pronta a presentare la prima coppia omosessuale all'interno della trasmissione Nel dettaglio stiamo parlando del notatore Alex Di Giorgio, che ha chiesto esplicitamente un ballerino gay per partecipare al programma Appuntamento quindi al prossimo 8 ottobre con le nuove puntate di Ballando con le stelle E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video